L'aumento dei prezzi dei materiali per la ricostruzione è un allarme lanciato ormai da tempo e i cantieri della ricostruzione rischiano per questo di non essere remunerativi per le imprese. Vanno trovate soluzioni subito. Per raggiungere questi obiettivi si è istituito un tavolo permanente operativo sulla ricostruzione 2009, un organismo voluto dal Comune, dagli uffici speciali USRA o SRC, dal coordinamento dei sindaci del cratere e stimolato dal lancio con il suo presidente Gianni Frattale. È ormai noto che la pandemia e l'aumento del prezzo di gas e materie prime ha generato una crisi anche a livello locale, in cui però il settore dell'edilizia è quello trainante. Il sindaco Biondi, già nel corso della visita del Premier Draghi ai laboratori del Gran Sasso, aveva consegnato un dossier contenente una proposta di emendamento per ristorare le aziende impegnate nella riparazione degli immobili privati colpiti dal sisma 2009, adeguando i contributi agli attuali costi che devono sostenere le imprese per dare alla ricostruzione la decisiva accelerazione. Il presidente Ance Gianni Frattale chiede inoltre di integrare il buono di costruzione con quello del super bonus. Sarebbe un'opportunità importante. Si vuole evitare il ritardo nella conclusione dei processi di ricostruzione degli immobili privati, che risentono ovviamente, anche secondo il titolare dell'USRA, Salvo Provenzano, dell'aumento dei costi delle materie prime della crisi in corso. Sì, la situazione è tale che abbiamo dovuto obbligatoriamente costituire questo tavolo perché i rallentamenti sono evidenti, incide in maniera significativa l'aumento importante delle materie prime, l'approvvigionamento delle stesse materie per le costruzioni è diventato problematico e per tanti i cantieri stanno subendo il rallentamento importante. L'ambizione del tavolo è quella di trovare soluzioni, ovviamente a legislazione vigente, noi non siamo in grado di cambiare le norme e quindi vogliamo spingere in maniera quanto più forte possibile sul sisma bonus, perché il sisma bonus subisce in maniera minore rispetto ai processi di ricostruzione gli effetti negativi dell'aumento del caro materiale. Io rispetto a un approccio sempre ottimistico in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, vedo che c'è un rallentamento generale, il rallentamento generale è sia sulla presentazione delle ultime pratiche che dobbiamo istruire, sia sui cantieri, parlavamo proprio a margine del tavolo che abbiamo fatto l'altro giorno che otto cantieri su dieci della ricostruzione stanno rallentando, il che significa che se non mettiamo in campo delle misure forti la situazione diventa drammatica.